Un'ora prima eravamo tutti tranquilli a ridere e scherzare al bar e dopo io mi stavo vedendo mia zia essere uccisa davanti ai miei occhi e ringrazio il cielo che c'ero anch'io quella sera, perché forse se no era morta ecco. Una serata di svago tra amici che si trasforma in un vero e proprio incubo per due giovani aretine, Stefania e Michela, zia e nipote, vittime di un brutale pestaggio. È successo nella notte tra il 5 e il 6 dicembre scorsi a Bolzena dove lavora una delle due. Una serata come tante in compagnia di amici in giro per locali. Gli animi iniziano ad accendersi attorno a luna quando per la prima volta intervengono i carabinieri chiamati da alcuni residenti. Deva si scherzava essendo un borgo, era tardi e ci hanno sollecitato o a fare meno casino o andare via. A quel punto zia e nipote decidono di rientrare a casa assieme ad un amico. Si accorgono però di essere seguite da coloro che poco dopo sarebbero diventati i loro aggressori. Erano amici miei, quindi mai l'idea che poteva succedere una cosa del genere. Fuori dall'abitazione di Stefania, prima si accende una lite e poi dalle parole si passa ai fatti. La donna viene infatti colpita con un pugno al volto. Zia e nipote riescono comunque a scappare e chiudersi in casa, ma il loro incubo ancora non è finito. Appena due secondi mi inizia a rompere per entrare tutti i tasselli della mia porta, perché ho dei tasselli di vetro molto sottili e me li rompe con un pugno. Inizia a romperli tutti, mette la mano all'interno e riesce ad entrare. E lì in quel momento non si capisce più niente. Ho diverse lesioni all'occhio, ho perso quasi la vista, ho quattro e mezzo di vista, ho i denti spaccati che mi si muovono tutti. Le giovani aretine vengono portate al pronto soccorso per essere medicate. I due aggressori, un 26enne marocchino ed un 32enne di origini romene, vengono rintracciati poco dopo dai carabinieri e portati in caserma. Per loro scatta immediatamente la denuncia, ma il giorno dopo sono nuovamente liberi. Cosa chiedete oggi? Giustizia, solo giustizia, sia per noi e anche per altre donne. Avete paura oggi? Tanta, quella sì, tanta.